Bimbi buongiorno! Oggi è venuta a trovarci la nostra amica Greta e mi ha suggerito per voi una ricetta facile e veloce buonissima. Ciao bimbi! Adesso vediamo un po' cosa ci serve. Ci servono delle lenticchie già cotte in un po' di acqua e un pizzico di sale, del formaggio grattugiato e della mollica. Adesso frulliamo le nostre lenticchie e poi andiamo ad inserire tutti gli altri ingredienti. Eccole qua pronte! Aggiungiamo i nostri ingredienti, il formaggio e un po' di mollica. Le impastiamo come se fossero delle polpettine di tritato normali, così... Adesso facciamo le nostre polpettine. Una volta pronte tutte le polpettine, ho messo un filo d'olio di sopra e le mettiamo in forno. Ecco pronte le nostre polpettine! Bimbi ma lo sapevate che la nostra amica Greta aveva proprio ragione! Vi raccomando mangiate tutto, fatemi vedere i piatti sempre vuoti e buon appetito!